Salvatore Passai, lei è un imprenditore o un consulente finanziario? In che modo le famiglie, i commercianti, gli imprenditori in generale possono superare la crisi finanziaria? Sono un consulente finanziario specializzato nella consulenza patrimoniale per la famiglia e diciamo che c'è sempre bisogno di avere qualcuno a fianco delle famiglie per superare le crisi. In realtà la famiglia da sempre ha avuto necessità di fare consulenza e pianificazione finanziaria solo che non c'è stato mai modo per farla in un modo così come dovrebbe essere fatto. Oggigiorno viviamo in un contesto socio-economico profondamente diverso con molte più incertezze rispetto al passato e a quelle che hanno avuto i nostri genitori. e molte di queste incertezze sostanzialmente devono essere affrontate maggiormente con i risparmi personali e quindi sempre più in futuro il risparmio sarà sempre un bene prezioso da tutelare per il futuro perché ci permetterà di fare cose che magari una volta e prima venivano fatte esclusivamente con la mano pubblica. Lei ha scelto proprio di mettere a disposizione degli altri la sua professionalità, di dare un aiuto, un contributo. Da dove nasce tutto questo? Beh diciamo questo nasce dal fatto che ho oltre 22 anni di esperienza e mi sono trovato sempre, mi sono incontrato con un problema molto ma molto importante quando incontravo le persone che era la paura, la paura di fidarsi, la paura di affidarsi a qualcuno per quanto riguarda la gestione dei propri risparmi. La paura diffusa che magari i risparmiatori hanno perché magari possono vedere svanire i propri risparmi. Da questo ho sentito la necessità di condensare i miei oltre 20 anni di esperienza cercando di mettere a servizio delle famiglie anche attraverso la scrittura di un libro dove do dei consigli come in un certo senso tutelare non solo i propri risparmi ma soprattutto il proprio patrimonio perché le famiglie sono abituate a guardare più l'aspetto finanziario, quindi l'asset finanziario piuttosto che il patrimonio nel suo complesso. Ecco a questo punto sostanzialmente ho sentito questa necessità e ho creato questo libro che ho messo a disposizione delle famiglie.